L'inaugurazione nei giorni scorsi dei giardinetti Gino Strada a Taranto. Secondo Alessandro Marescotti di Peace Link, Strada ha incarnato lo spirito della nostra Costituzione. E ha detto, tre anni fa, perdevamo un uomo che ha fatto della medicina un atto di coraggio e di ribellione alla guerra. Siamo in via Calabria, a Taranto. Ci sono dei volontari che stanno pulendo la piazzetta con i giardinetti intitolati a Gino Strada. È un'occasione importante perché tre anni fa ci lasciava un grande testimone della pace Gino Strada e lo vogliamo ricordare oggi in questi giardinetti con questa sorta di inaugurazione popolare perché molti non sapevano che appunto vicino a casa loro erano stati creati dei giardinetti intitolati a Gino Strada. I volontari si sono dunque incontrati per pulire, innaffiare, piantare un tronchetto della felicità in queste aiuole intitolate al medico di emergency che ha dedicato la vita a curare le vittime delle guerre. Marescotti puntualizza, qui vogliamo riaffermare ciò in cui lui ha creduto il ripudio della guerra che la nostra Costituzione pone nell'articolo 11 a salvaguardia dei valori più importanti di pacifica convivenza e per la risoluzione dei conflitti internazionali. In un momento in cui all'orizzonte si vede lo spettro nuovamente degli euromissili che verranno installati in Germania e che ci riportano vicini a quell'incubo nucleare per cui Gorbaciov e Reagan avevano siglato un accordo per distruggerli per sempre. In questi giardinetti vogliamo piantare anche i semi dell'albero di Cacchi che è sopravvissuto all'esplosione nucleare di Nagasaki. Un esempio di resistenza e anche un simbolo che dobbiamo cercare di diffondere perché l'olocausto atomico non avvenga mai più e perché sia forte il presidio della coscienza popolare a difesa della pace.